Bella ragazzi, qui Ghiotto, oggi video un po' diverso dal solito, anche un po', ma sì, passatemi il termine complottista, perché andremo a vedere lo strano caso di Juve-Roma, che negli ultimi anni, casualmente, ma sicuramente sarà una coincidenza, capita sempre nelle ultime tre giornate. Quindi non è che uno dice nelle ultime cinque giornate, no, proprio nelle ultime tre giornate. Ok, voi direte, beh, quindi cosa cambia? Cambia, perché per quanto riguarda l'andata non cambia niente, per la squadra Juve anche non cambia niente, ma invece per la Roma affrontare una Juve a maggio, che negli ultimi anni, lo sapete meglio di me, aveva già sempre lo scudetto in tasca, ma già da diverse partite, beh, per la Roma cambiava tantissimo. Era un grosso vantaggio, infatti andremo a vedere adesso che la Roma, quelle partite lì, ha sempre fatto un risultato positivo, caso strano, invece all'andata ha sempre perso, ma andiamo a vedere adesso nel dettaglio. Allora, nel 2016-2017 Juve-Roma capita la diciassettesima giornata e la Juve vince 1-0. A ritorno addirittura Roma 3, Juve 1, quindi un risultato anche netto. All'appunto trentaquettesima giornata, perché se era la diciassettesima, a ritorno era trentaquattro, la Juve aveva già lo scudetto in tasca e la Roma ha vinto, tranquillamente. Poi 2017-2018, che è l'anno in cui comunque lo scudetto è stato in bilico fino alla fine, ma addirittura lì è capitato alla diciottesima giornata, quindi alla penultima giornata. E anche qui, caso strano, Juve-Roma all'andata ha vinto 1-0 la Juve, mi pare gol di Guain, adesso vado a memoria. Bellissimo gol e a ritorno Roma-Juve 0-0. Vedete che qua la Juve non ha perso, adesso non mi ricordo se quella giornata lo scudetto era ancora in bilico invece, però mi ricordo che quell'anno il Napoli ha lottato fino alla fine, quindi la Juve diciamo un pareggio, si è accontentata di un pareggio. Invece quest'anno, 2018-2019, Juve-Roma all'andata sempre 1-0, mentre Roma-Juve è capitata la diciassettesima in quest'anno, quindi alla trentaquattesima giornata Roma-Juve, lo sappiamo tutti, 2-0 con quel gol di Florenzi, e anche quel battibecco Ronaldo-Florenzi, in cui Ronaldo fa così a Florenzi, sei alto così, vabbè una cosa del genere. E come se non bastasse, per non farsi mancare niente, quest'anno la prima è Roma-Juve, quindi invertita. Roma-Juve, poi a ritorno sarà Juve-Roma, e addirittura la diciannovesima giornata. Quindi Juve-Roma si giocherà poi alla trentautesima giornata e lì probabilmente i giochi dello scudetto saranno fatti. Io adesso non voglio dire che quest'anno vincerà di nuovo la Juve con 20 punti di vantaggio, però parte favorita. Quindi per la Roma, che metti che è in corsa Champions o in corsa Europa League, non lo sappiamo, beh, affrontare la Juve l'ultima giornata cambia che affrontarla magari 5-6 giornate prima. Quindi ragazzi, io adesso non voglio dire che il campionato sia pilotato, perché se no smetterei di seguirlo. Però, ragazzi, è un caso abbastanza strano. E come vedete i dati riportano una tesi che all'andata ha sempre vinto la Juve. Al ritorno la Roma ne ha vinte due e pareggiata uno. Ne vedremo quest'anno, ma sono sicuro che anche quest'anno farà un risultato positivo. Quindi ciò significa che affrontare la Juve alla ventesima giornata o affrontarla alla trentottesima, ovviamente, cambia. E non poco, ragazzi, perché la Juve arrivava sempre a quel punto dell'anno senza più obiettivi. E mi era capitato un altro caso del genere con Inter e Lazio, perché adesso l'anno scorso era capitata, mi pare, l'undicesima giornata. Comunque a novembre, mi ricordo. Quest'anno capiterà addirittura la quinta, magari vado anche a vederla a Milano. Mentre invece, partendo da due anni fa, andando anche poi a scavare in anni indietro, Inter Lazio era sempre le ultime giornate, le ultime tre, quattro giornate. Infatti ci feci un video, ma proprio uno dei miei primi video di calcio, in cui parlavo di calcio quando avevo pochissimi iscritti, in cui dicevo, è un caso strano. Poi ti dico a noi che Inter Lazio capiti verso la fine. Alla fine, sì, può essere, tra virgolette, uno svantaggio, ma neanche più di tanto. Alla fine, sì, per esempio due anni fa c'è costato caro la Champions, però ragazzi, alla fine le squadre sono quelle, no? Le devi affrontare tutte. Però, anche lì era un caso strano. E adesso sono quattro anni di fila che Juve-Roma addirittura è sempre nelle ultime due, tre giornate. Quindi è veramente una casualità abbastanza unica, posso dire. Quindi, boh, non lo so adesso, ripeto, non voglio dire sia pilotato sto sorteggio, perché se no, veramente, smettiamo di seguire il calcio, chiudiamo il canale YouTube e basta. Però, a volte, quando succede questi dati, che per un anno, due anni, dici, ok, tre anni, quattro anni di seguito così, due domande te le fai, o no? Cioè, parliamoci chiaro, due domande te le fai. E, boh, ragazzi, niente, ditemi cosa ne pensate voi, ditemi, non so, anche secondo me questo modo del computer è un po' pilotato, magari non è proprio giusto, o se no, dite, no, stai sparando le cazzate, è una casualità, eccetera, eccetera. Quindi, mi raccomando, ci tengo a sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti, seguitemi su Instagram, il link lo trovate sempre in descrizione, iscrivetevi al canale, like al video, ciao ragazzi, bella!